Musica Miglior tesi di laurea a David Sassoli, la premiazione dei giovani vincitori, la cerimonia nel secondo anniversario della scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo. Onorificenze, il gonfalone d'argento a Giorgio Chiellini, stella del calcio giocato, un esempio e un modello per i tanti ragazzi che si avvicinano al mondo dello sport. Musica, Piave Classica, al Via la decima edizione, presentata in Consiglio regionale la Kermess di Piave Santo Stefano, primo appuntamento sabato 27 gennaio. Premio Miglior tesi di laurea a David Sassoli Nel secondo anniversario della scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo si è tenuta a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio Miglior tesi di laurea a David Sassoli a tema all'Europa, alle regioni e ai cittadini, rivolto ai giovani laureati degli Atenei Toscani e giunto alla seconda edizione. Bandito nel 2022 dal Consiglio regionale della Toscana, istituito con la legge regionale 21 del 2023, il premio ha l'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli, incrociando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra regioni ed Europa. Ed è parte del programma delle iniziative per le giornate dell'Europa, disposto dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Politiche Europee e Relazioni Internazionali. David Sassoli ha avuto la grande forza in quegli anni di impegno di avvicinare l'Europa sui territori e noi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Spesso i cittadini non toccano con mano quanto siano importanti le decisioni che si assumono in Europa, invece sono tante e riguardano la vita di ogni giorno. Ricordare David Sassoli oggi qui si poteva fare in mille modi. Noi abbiamo scelto tutti insieme in Consiglio regionale di farlo investendo sui giovani, perché David Sassoli davvero è stato uno tra quegli uomini delle istituzioni che più ha creduto nella necessità di sostenere le ragazze e i ragazzi più giovani. Lo facciamo premiando le migliori tesi di laurea delle nostre università. Ci sono dei lavori davvero incredibili che possono servire anche a noi nel nostro impegno quotidiano, anche il mio in questi mesi, in questi anni in Europa. I giovani vivranno un'Europa diversa e devono costruirla insieme a noi. È una giornata che unisce elementi diversi, emozioni anche contrastanti, perché c'è il dolore per il ricordo di una scomparsa così rilevante e al tempo stesso c'è anche la gioia, l'emozione del vedere queste ragazze e questi ragazzi che noi andiamo a premiare, vedere anche valorizzato il loro lavoro, guardando soprattutto alle prospettive di un'Europa che deve essere ancora più rafforzata e costruita, partendo proprio dalle idee delle giovani generazioni che era la cosa alla quale forse teneva di più Davide Sassoli. Davide Sassoli è sempre più attuale nelle nostre menti, nei nostri cuori, nei nostri ricordi, una figura che nel nostro immaginario rappresenta l'Europa, rappresenta le istituzioni ed è fondamentale quello che sta facendo il Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio di Presidenza, perché prova a ricordare con i ragazzi, con i loro lavori, con i loro studi, come si sta nelle istituzioni e come l'Europa può giocare un ruolo fondamentale nella vita dei giovani e questo è uno di quei riconoscimenti che dà lustro all'attività della nostra iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, del Presidente Mazzeo, del Presidente Gazzetti e credo che sia una di quelle iniziative dove i ragazzi si riconoscono. Quindi è un modo importante per avvicinare i ragazzi dell'Europa e l'Europa ai ragazzi della Toscana. Ho guardato in quanto docente ovviamente le tematiche che sono state affrontate e sono varie perché c'è una tesi ad esempio che affronta il problema dei certificati verdi, delle emissioni dei gas serra, c'è la tesi che affronta il controllo degli investimenti stranieri nei paesi dell'Unione Europea. Io mi interesso di finanza, è una tesi senz'altro interessante, problemi amministrativi, problemi collegati alle nuove generazioni, alla consultazione che c'è stata l'anno scorso sui giovani e poi la tesi vincitrice, si può dire, su un problema che noi forse teniamo spesso sotto il tappeto, il come vengono accolti i profughi e come vivono nei campi profughi, un tema sicuramente da sollevare e da aver presente. Il primo classificato è Jacopo Battisti, laureato all'Università di Firenze, che si è giudicato 6.000 euro. Gli altri quattro vincitori si sono classificati i secondi ex equo e hanno ricevuto un premio di 3.500 euro. Sono Francesco Bortoletto e Pietro Chiarelli, entrambi laureati all'Università di Firenze, Agnese Clementoni Chirubini e Francesco Genoni, laureati all'Università di Pisa e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna. 18 gli elaborati esaminati dalla Commissione, presieduta da Jacopo Cellini, dell'Istituto Universitario Europeo. Sono stati presentati lavori da un ampio spettro di prospettive disciplinari, quindi dal diritto alla storia, dalla scienza politica all'architettura. La tesi che ha vinto è una tesi di architettura e che mostrano come gli studi europei abbiano bisogno del concorso di molti saperi per una migliore comprensione anche del nostro presente. Questi lavori hanno affrontato anche tantissimi argomenti diversi sul funzionamento delle istituzioni europee, sul processo della costruzione europea, sulle politiche interne ed esterne dell'Unione e quindi ci fanno capire anche come l'Unione Europea faccia parte poi del... ci sia bisogno di diverse prospettive accademiche per capirne meglio tutte le angolature. La tesi di Jacopo Battisti si sofferma sull'analisi dell'architettura dei campi rifugiati nell'Unione Europea. È un lavoro di grande respiro, con ricadute importanti, che mette in luce come gli ideali di accoglienza promossi dalle politiche adottate fino ad oggi nel territorio dell'Unione Europea non siano mai stati tradotti in linee guida utili per la progettazione delle strutture umanitarie. Il mio lavoro di tesi ha voluto sottolineare quelle che sono le mancanze dal punto di vista progettuale degli spazi umanitari, specialmente dopo la crisi dei migranti del 2015. Quello che si voleva sottolineare è che l'architettura non è uno, come si può dire, uno sfondo passivo nella poi qualità della vita, ma che in realtà rispecchia alcune contraddizioni che ci sono tra gli ideali delle politiche che però non si poi traducono in delle linee guida utilizzabili per la progettazione di questi spazi. Nel corso della cerimonia, il presidente della Commissione Europa, Francesco Gazzetti, ha letto il testo della lettera inviata da Alessandra Vittorini Sassoli, moglie dell'ex presidente del Parlamento Europeo, in occasione della cerimonia. Sarà bello immaginare anche stavolta che la ricorrenza della scomparsa di David Sassoli potrà associarsi ad un'iniziativa così significativa che guarda i giovani studiosi, ai loro percorsi di studio, alle loro ricerche, all'Europa e al futuro, ha scritto la moglie Alessandra. Il gonfalone d'argento a Giorgio Chiellini. Un esempio modello per tante ragazze e ragazzi che si avvicinano al mondo del calcio, un campione che ha portato il nome della Toscana in alto in Italia e nel mondo, trasmettendo valori come la disciplina e rispetto la sana competizione sportiva. Con queste motivazioni, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato il gonfalone d'argento, la più alta norificenza dell'Assemblea legislativa toscana, a Giorgio Chiellini, che ha annunciato il ritiro al calcio giocato il 12 dicembre scorso. La cerimonia si è svolta nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, città in cui lo sportivo è cresciuto calcisticamente. Chiellini, da capitano della Nazionale Italiana, ha contribuito alla conquista del Campionato Europeo 2021, oltre ai nove scudetti vinti con la maglia della Juventus. Il riconoscimento è stato deciso dall'Ufficio di Presidenza. Giorgio Chiellini è un esempio, è un modello fuori e in campo. È stato il capitano della nostra Nazionale, è stato, ha iniziato a giocare a Livorno, poi a Firenze e infine per tanti anni nella Juventus. È un esempio per tante ragazze e tanti ragazzi che si avvicinano allo sport. È stato un grande campione che ha portato il nome della Toscana in alto in Italia e nel mondo. E alla fine di una carriera così importante, direi unica, con la Coppa alzata a Wembley, noi abbiamo voluto dargli questo riconoscimento per ringraziarlo e per chiedergli di continuare a portare in alto il nome della Toscana nel mondo. Chiellini ha annunciato martedì 12 dicembre di tiro dal calcio giocato, chiudendo la carriera negli Stati Uniti con il Los Angeles FC. Cresciuto nel Livorno, con cui ha vinto il campionato di Serie C, ha legato la sua carriera alla maglia della Juventus, con cui da bandiera è capitano, ha conquistato il record dei nove scudetti consecutivi, raggiungendo anche due finali di Champions League. Indelebili nel cuore dei tifosi della Nazionale, le immagini del trionfo all'ultima edizione degli europei vinta dall'Italia a Wembley nel 2021, culmine di una carriera da 117 presenze in Nazionale. Io sono sempre stato tanto orgoglioso di essere toscano e quindi è un premio che fa tanto piacere. Mi sento di aver comunque portato la mia toscanità sempre in giro con me in tutto il mondo. In questi anni ho avuto la fortuna anche di comunque vivere tanto in Toscana, non a fine vent'anni a Livorno, ma anche dopo con Firenze, la Nazionale, con tanti amici e colleghi toscani che ho avuto in catera e quindi ricevere questo premio da parte della regione è sicuramente un onore e un piacere e spero di rendere orgogliosa questa regione anche in futuro. Io penso che poi in tutte le sfaccettature di noi toscani che ci reputiamo tanto diversi, in realtà nel resto dell'Italia siamo molto riconoscibili, c'è un'eccellenza in tanti settori, siamo diretti, siamo veri, siamo tosti e questo credo che sia una cosa che ci viene riconosciuta sicuramente in tutta Italia e poi chi conosce anche un po' la nostra nazione nel resto del mondo. A fare gli onori di casa, il sindaco della città, Luca Salvetti. Noi avevamo a suo tempo omaggiato Giorgio Chiellini subito dopo i campionati europei, la vittoria, lui come capitano, poi l'abbiamo ospitato di recente a visitare la nostra mostra sul Leonardo e poi da lì è nata l'opportunità che il presidente del Consiglio della regione, Mazzeo, ha costruito e noi più che volentieri abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri ambienti per una consegna che è di ambito regionale e che dà lustro naturalmente anche alla città di Livorno perché Giorgio poi è cresciuto qua, è cresciuto nel Livorno 9, ha giocato nel Livorno contribuendo a una scalata ai vertici del calcio italiano, poi ha fatto la sua luminosa carriera ricordando sempre la sua città, tornando sempre qui e facendo anche tante cose belle per realtà della nostra Livorno. Quindi direi che lo scenario è quello giusto per vederlo ricevere un premio come questo. A fare i complimenti a Giorgio Chiellini anche Francesco Gazzetti, consigliere regionale e membro dell'ufficio di presidenza che ha inviato un videomessaggio registrato davanti allo Stadio Picchi di Livorno. Pieve Classica al via la decima edizione. Torna Pieve Classica, la kermesse musicale di Pieve Santo Stefano che celebra quest'anno la decima edizione. Dieci serate tra gennaio e maggio al Teatro Giovanni Papini. Il primo appuntamento è in calendario per sabato 27 gennaio. Sono particolarmente soddisfatto che quest'anno si svolga presso la sede del Consiglio regionale della Toscana la presentazione di Pieve Classica che di fatto è diventata una delle manifestazioni più interessanti e più importanti della Valtiberina e anche della provincia di Arezzo. Grazie alla grande capacità dell'amministrazione comunale di intercettare delle personalità del mondo musicale veramente importanti. Tant'è vero che di alcuni concerti già si segna il sold out come quello di Fabio Concato. Il primo appuntamento il 27 gennaio è con Tutto in una sera. Al pianoforte il maestro Eugenio Milaccio eseguirà musiche da Bacca Morricone. Seconda serata al 2 febbraio con i ragazzi del Cherubini, concerto degli alunni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Il 23 febbraio un'avventura concerto tributo a Lucio Battisti della SRL & Friends. Il 6 marzo è il giorno di Fabio Concato con il suo musico ambulante tour. Il 15 marzo sarà la volta di come un'onda lieve e forte del mare tributo a Giacomo Puccini nel Centenario della Morte con la soprano Noemi Umani il tenore Roberto Iachini Virgili ed Eugenio Milazzo al pianoforte. Il 5 aprile istanti la vita un'emozione del clarinettista Francesco Seri nativo di Pieve Santo Stefano e il 19 aprile canta Bill 3 con Federico Gili alla fisarmonica Pietro Paris al basso e Lorenzo Brilli alla batteria. Si chiude venerdì 10 maggio con i concertisti e Fabio Battistelli da Mozart a Paganini. È una rassegna che punta molto sulle giovani leve della musica e nel programma mischiate con serrate più importanti e con grandi nomi dello spettacolo. Un'altra cosa importante è che Pieve Classica è anche un po' un nome generico nel senso che per noi classico è un po' tutto quindi c'è la musica classica lirica jazz ma anche la musica pop perché la musica pop ci sono anche dei classici e infatti quest'anno nel 2024 come spettacolo di punta avremo il 6 marzo Fabio Concato che è un classico della nostra musica canta taurale italiana che specialmente della mia gioventù ha rappresentato veramente tanto. Sosteniamo Pieve Classica dall'origine della prima edizione quindi è una tradizione ormai per noi sostenere questo evento che in Valtiberina è diventato sempre più importante nell'ambito della musica ha iniziato veramente con la musica più da coro poi si è allargata insomma tutti i generi musicali e il sostegno che la banca di credito cooperativo dà al territorio si sostanzia sempre in queste sponsorizzazioni delle iniziative culturali che possono in qualche modo dare lustro alla nostra provincia e soprattutto sostenere chi come gli organizzatori di Pieve Classica si danno molto da fare per portare un po' di pubblico e di gente a far conoscere quel bel teatro che è questo di Pieve Santo Stefano che è un po' di Pieve Classica che è un po' di Pieve Classica che è un po' Grazie a tutti.